Sara ma tu ti sei iscritta al nostro canale no cosa iscriviti buongiorno dai due in cammino abbiamo da poco affiancato alla nostra GoPro Euro 5 che è questa, la nostra filata GoPro Euro 5 abbiamo affiancato una DJI Osmo Action e ci siamo chiesti se non fosse il caso di aggiungere qualche accessorio per cui a chi non è mai capitato guardando su Amazon di trovare quelle offerte con quei pacchi di accessori 50 accessori, 70 accessori, 120 accessori che non si attaccano al lavoro del vostro dentista, cose del genere chi più ne ha più ne metta ovviamente ci sono stati di accessori prodotti da terze parti, non di accessori originali della DJI o della GoPro perché ricordiamo che la Osmo Action utilizza lo stesso attacco della GoPro diciamo che in questo la DJI si è accodata alla GoPro per imporre questo attacco che ormai è universale per la GoPro, per la DJI, per la Insta360 e anche per altre action cam smarcate diciamo e per cui noi abbiamo pensato di ordinare questo pacco di accessori da Amazon e questo è l'unboxing questo è un pacco da 51 accessori che alcuni accessori sono specifici per la Osmo Action 5 o 6 accessori circa, tutti gli altri sono compatibili tra Osmo Action, GoPro e Insta360 allo stesso modo se volete una GoPro ci sono dei pacchi di accessori specifici per GoPro mentre per la Insta360 non ci sono offerte specifiche ho visto dovete farvi andare bene o il pacco della Osmo o il pacco della GoPro però partiamo con l'unboxing oh, qui è tutto dentro, tutto schiacciato cominciamo allora, questo è il materiale per assorbire l'umidità e si usa mettendolo nella custodia impermeabile una custodia subacquea perché quando chiudiamo la custodia subacquea magari c'è rimane dentro un po' di umidità ambientale e una volta che ci immergiamo in acqua, l'acqua è più fredda per cui questa umidità ambientale interpolata dentro la custodia tende a, come si chiama, tende a condensarsi sulle pareti della custodia e se si condensa proprio davanti all'obiettivo dovete immaginare le riprese come potrebbero venire e qui sono 16 pezzettini di materiale assorbente dell'umidità va bene questo, molto carino questo è un mini treppiede, un mini stativo come vedete ha l'attacco da un quarto ha i piedini gommati molto apprezzabile questa cosa dei piedini gommati con scivolare sembra anche abbastanza rebusto per ora per cui qui serve l'accessorio da un quarto che probabilmente sarà dentro nella scatola quando lo trovo torneremo su questo pezzo questo invece è uno degli accessori specifici per la DJI Osmo Action è la chiavetta che serve per svitare il coppio di obiettivo che ha un serraggio molto duro possiamo dire non è proprio facilissimo da svitare e su quello, una volta svitato, sul filetto si possono montare i filtri oppure degli obiettivi aggiuntivi tipo c'è un super grandangolare o fish eye da 180 gradi e c'è anche un obiettivo macro poi questo a noi non serviremo però questa è utile per smontare il coprilente anche nel caso banale che si rovini sia rigato o si rompa basta svitarlo e cambiarlo o sostituirlo poi abbiamo delle viti che fanno sempre comodo e allora questa è la custodia galleggiante ha una sua vite, un cordino e la custodia galleggiante che di per sé noi ne abbiamo già una così per la GoPro non è bellissima esteticamente non è che sia bellissima però fa il suo lavoro nel senso che tiene a galla la GoPro l'abbiamo trovata al lago e anche sul fiume una volta mentre tiravamo in secca il kayak avevo la GoPro infilata nel giubbottino salvagente nella tasca subito del giubbottino del PFD chinandomi per tirare in secca il kayak mi è cascata la GoPro in acqua però fortunatamente era collegata alla sua maniglia galleggiante per cui è rimasta a galla io l'ho presa e me l'ho rimessa nella tasca per cui non è bellissima però fa il suo lavoro ed è utile perché può evitarvi una grossa perdita se ricasca in acqua l'action cam dove è profonda è difficile da recuperare questa è la besties praticamente il corpetto lo indossate qui è già montato un profilo a J qua l'attacco ti mette un profilo a J o un profilo piano qua ci collegate la vostra e l'action cam e poi così potete fare delle riprese a mano libere da un punto di vista un po' particolare ecco facciamo vedere qui potete poi potrete orientarla a seconda del tipo di riprese che volete fare se è più dritta o qui si può addirittura mettere sotto sopra ok questa è la besties mettiamola da parte questo oh questa è interessante è una chiavetta per avvitare e svitare per serrare o svitare le viti di serraggio dell'action cam che può essere utile se volete proprio essere sicuri della chiusa bene è lo stesso modo per aprire facilmente di questi accessori in quasi tutti c'è una controparte originale della DJI o della GoPro per esempio di questa la GoPro ha una controparte che si chiama Detool e costa 10 euro solo questa chiavetta c'è da dire che il Detool della DJI oltre a serrare le viti le viti della DJI i dadi fa anche da apri bottiglie magari a Giulia potrebbe far piacere però normalmente comunque 10 euro pagate 10 euro per un apri bottiglie che può serrare le chiavette il stesso discorso è per la Vestis questa è una Vestis insomma le fasce non mi sembrano messe male è abbastanza robusta ecco forse non è forse un po' sottile la piastra su cui è collegato l'attacco però tutto sommato non mi sembra malvagia e la Vestis della GoPro il Cesty come lo chiamano loro costa 39 euro da solo la puntura galleggiante della della GoPro mi pare il flotti pare si chiami mi pare che venga 20 circa 20 euro o 30 non sono sicuro 20-30 euro poi proseguiamo questi ah questo è ancora un accessorio specifico per la Osmo per l'Osmo Action sono i vetri temperati da mettere sugli schermi e sull'obiettivo per proteggerli dovrebbero essere anche idrofobici per cui quando facciamo le nostre uscite in kayak dovrebbero rimanere un po' meno gocce sulla lente dell'obiettivo speriamo scopriremo la prima uscita in kayak questi sono sono le piastrine di fissaggio sono 1, 2, 3, 4 sono due piastrine di fissaggio piatte come potete vedere e due piastrine di fissaggio curve queste sono per i caschi che si possono usare per i caschi per il casco da bicicletta il casco da motociclista il casco per discesi in kayak il casco per lo zettino per lo scheleton e gli adesivi accoppiati sono della 3M per cui dovrebbero essere di qualità non sono degli adesivi smarcati di dubbio provenienza ma dovrebbero essere adesivi di qualità allora qua due adesivi piatti due adesivi tondi due piastrine piatte due piastrine curve ottimo e di questo se non sbaglio la GoPro offre tre attacchi piatti tre attacchi arcuati più i corrispondenti adesivi li offre a 29,90 euro questi sono quattro per cui è come se la GoPro li offrisse a 20 euro ecco per cui questa è la mollettona è una molletta non è magnetica è semplicemente ha azione meccanica molto dura per cui avrà una bella presa questi dentini per cui è meglio utilizzarla su superfici che non si rovinino con la compressione per cui il kayak il nostro kayak gonfiabile è fuori discussione questa è anche si può anche girare può anche rotare per cui potrebbe essere ottima per fissarla allo spallaccio di uno zaino voi fissate la vostra action cam allo spallaccio dello zaino qui e poi potete tenerla potete fare anche delle riprese direttamente allo spallaccio dello zaino se fecciate il tasto di registrazione oppure è per tenerla portata di mano senza metterla in tasca o da qualche altra parte ve la agganciate ovviamente con la mettete la sua la sua vite anche qui potete scegliere la posizione ovviamente qua non gira solo a 90 gradi ma può girare anche in altre con altre angolazioni e a scatto non so di quanti gradi sia ogni scatto penso penso 10-15 gradi ogni scatto forse 12 e mezzo ogni scatto e comunque potete tenerla o alla portata di mano sullo spallaccio oppure potete toglierla quando serve e impugnarla si può anche collegare ad altre superfici magari non so a un cappellino qualcosa del genere la GoPro offre una molletta simile solo che è anche magnetica a differenza di questa che è solo meccanica l'altra è anche magnetica per cui si si collega anche a si può semplicemente collegare delle superfici metalliche deve rimanere anche è fissata però costa 24 ore 99 quella della GoPro e qui abbiamo oh ecco qua quello che cercavo prima ci sono allora un altro di questi attacchi a Jay è già fissato allo cesty e poi ci sono due attacchi piani normali che uno può scegliere quale utilizzare poi questo è strano da una parte ha un attacco da un quarto e dall'altro attacco GoPro per cui non so se avete gli accessori particolari e questo è l'attacco da un quarto di pollice allora torniamo al vecchio al piccolo tripode nel tripilino vedete è così collego come impugnatura è un po' corta bisogna avere una manina piccina come quella di Giulia per cui non è non è uno shorty è più un treppiede per cui però è molto piccolo eccola qui a posto poi possiamo posizionate come in base a come dovete fare la ripresa è molto comodo perché è poco ingombrante potete tenere una taschina dello zaino se non volete girare con il trappiede montato potete una taschina dello zaino e quando avete bisogno di fare una foto da fermi lo tirate fuori è molto semplice da usare questa è la carottina che si può mettere su un casco sempre su un casco oppure direttamente in testa qua si fissa la vostra action cam devo dire che finora tutti i denti degli attacchi sono perfetti si entra senza sforzo non sono storti non ci sono bave non ci sono residui di lavorazione per cui la qualità non è così malvagia avrei pensato che avremmo potuto trovare magari delle bave di plastica perché gli stampi non sono particolarmente accurati ma in realtà non è male cioè si vocifera che queste escono dalle stesse fabbriche da cui escono quelle originali nel senso che chi le produce si è tenuto gli stampi per cui poi dopo dopo aver prodotto quelle su licenza abbia continuato a produrre anche magari un proprio magari cambiando i materiali perché c'è da dire che i materiali potrebbero essere diversi comunque la plastica è abbastanza rigida dentro ci sono tutte le strisce di silicone su tutta la superficie per evitare che si muova troppo durante l'attività per cui ottima per la testa o per i caschi altro ah questi questi sono i tether sono dei pinzaglietti tether come potete chiamarli sono delle sicurezze aggiuntive sempre con adesivo anche questo è un 3M 3M VHB per cui l'adesivo deve essere molto forte e questo è di adesivo si toglie da una parte dall'altra si fissa al suo tether si lega da una parte si lega il laccio e l'altra parte del laccio si lega al telaio della vostra action cam è una sicurezza aggiuntiva una sicurezza in più sul casco sarete di figura che magari l'action cam fissata sul casco si possa staccare se c'è anche questo tether si stacca però rimane comunque legata al casco potete recuperarla oppure su una tavola da soup stessa cosa magari avete usato uno di questi adesivi piatti sulla tavola da soup se volete avere proprio una sicurezza aggiuntiva gli legate anche un tether per cui avete raddoppiato la sicurezza la possibilità che si stacchi comunque diminuisce drasticamente devo andare a staccarsi in tutte e due contemporaneamente per cui se deve essere succeduto cosa del genere vedete che vi siete cacciati in una situazione in cui l'action cam è l'ultimo dei vostri pensieri probabilmente sto pensando come potrebbe succedere con il kayak questo è un selfie stick vediamo un po' monopod made in china di bello anche ha la filettatura sotto per cui lo posso accoppiare al mini tripode amministrativo qui è accoppiato così praticamente ho un cavalletto perché poi questo è estensibile vediamo quanto è estensibile allora guardate direi che è almeno un metro è un metro di service stick allora è metallo per ora è dritto poi bisogna vedere con l'uso quanto legge apri chiudi apri chiudi la qualità potrebbe farsi sentire poi si può regolare e poi anche qui e questo ha l'attacco da un quarto per cui serve questo adattatore voi ci ci fissate l'adattatore l'adattatore gopro e poi ci fissate la vostra action cam osmo o gopro che sia e fate le vostre riprese ecco prendete così questo diventa un cavalletto portatile che si può smontare per diminuire lo spazio occupato che a noi che facciamo i cammini questo è francamente è una cosa molto gradita è un bracciale questo è un bracciale è imbottito questo bracciale per cui non dovrebbe sfregare troppo sul polso non dovrebbe dar fastidio la particolarità è che l'attacco è rotante a 360 gradi in più c'è questa linguetta che permette di bloccarlo nella posizione che ci interessa per fare le riprese si diciamo che balla di qualche grado però può essere interessante non so che tipo di riprese si possono fare con queste forse è più grato per tenersi alla portata di mano si diciamo fate le riprese alla superman con l'affare legato qui sopra fate una prima persona superman e anche questo dire con la vita quindi quasi tutti gli accessori vengono con una vita aggiuntiva per cui non c'è pericolo di rimanere senza viti per gli attacchi questa questa è una ventosa sì la ventosa penso da vetro allora è tutta di plastica ovviamente si può regolare in questa direzione lateralmente e anche su e giù con queste viti di plastica le viti su cui si fissa anche qui serve l'attacco da un quarto ovviamente le viti su cui si fissa sono di metallo però poi tutto il resto è plastica si è plastica e c'è una specie di animetta di metallo qui nel meccanismo che serve per ingaggiare la ventosa sì c'è questa ventosa questa dovesse per il vetro per il vetro dell'auto o per superfici lisce al pari del vetro io vi consiglio di utilizzarlo al massimo sì su parabrezza dell'auto ma nella parte interna non fuori non sui vetri per fare quelle riprese laterali con l'action cam di fianco all'auto perché francamente non mi fiderei se fossi in voi perché rischiate che vi caschi alla prima connessione la prima scossone che date all'auto rischiate secondo me che vi caschi che vi caschi l'action cam magari finisce anche sotto le ruote siete voi stessi a romperla non mi sembrare il caso se avete proprio bisogno di fare una ripresa di questo tipo ci sono altre suction cup in commercio cioè quella originale mi sembra della della GoPro la ventosa della GoPro costa 49,99 euro altrimenti ho visto che ce n'è una molto bella della PGY Tech con il corpo in metallo e gli snodi sono sferici per cui c'è un'estrema libertà di movimento per per le riprese col corpo in metallo però costa quasi come quella della originale della GoPro mi sembra 45 euro poi non so se ogni tanto vanno in sconto comunque noi facciamo cammini e discesi in kayak e questa probabilmente non useremo mai mai dire mai ma ho dei dubbi cos'altro c'è qui ah qui c'è un altro attacco da un quarto di pollice come questo qui ci sono due attacchi da un quarto nel pacco ottimo perché questi non bastano mai cos'è questo ah questo è il corpo un altro specifico per la Osmo Action è il copio obiettivo perché la nostra Osmo Action non ha il copio obiettivo vediamo eh dentro è si è zigrinato dovrebbe fissarlo non lo so è plastica rigida secondo me non ne entra bene rischia di graffiare il board nel copio obiettivo devo provarlo ma no questo non mi convince granché praticamente è come la chiavetta solo che non ha non ha il braccetto no di buono ma anche al foro passante per metterci una cordicella così si evita di perderla per esempio noi il copio obiettivo della GoPro con l'originale l'abbiamo perso perché togli e metti togli e metti questo è una è un è un altro copio obiettivo che abbiamo acquistato assieme ad altri accessori questo è un cage è un cage per osmo action si apre a fine ah si a scorrimento a finestrella qui si infiera l'action cam e poi si richiude come particolarità questo cage è la slitta la cord shoe superiore e lateralmente ha l'attacco da un quarto poi può darsi che ecco per esempio questo strano accessorio con l'attacco da un quarto e l'attacco gopro dall'altra si può avvitare qui per fare le cose non so bisogna vedere se si marescono delle luci che hanno l'attacco gopro o dei microfoni che hanno l'attacco gopro o qualcosa del genere potete usare questo no un cage in più con le slitte fa sempre co tanto più che noi la osmo action la utilizzeremo spesso con i microfoni esterni noi abbiamo preso dei microfoni esterni della rode diciamo che li abbiamo acquistati assieme all'action camera che abbiamo avuto un'offertona che non potevamo riusciutare per cui li abbiamo preso al volo e per cui le slitte per i microfoni tornano molto utili buono buono anche questo e direi che siamo arrivati alla fine abbiamo questa scatola che ha le stesse dimensioni della nuova confezione della gopro hero 9 e 10 si vede che sono aggiornati vediamo cosa c'è dentro allora ah questo ah si questo è il è l'accessorio per fissare l'action cam al manubrio o al canotto della bicicletta preoccupate che si svita una vita è molto lunga ci metto una vita comunque si svita si apre si infila sul canotto si richiude e questi sono degli snodi aggiuntivi per cui se volete fare delle riprese molto particolari con la bicicletta questo se potete vedere adesso vedete non ho messo le viti mettendo le viti si capisce meglio ecco mettendo le viti si capisce meglio qua sopra ci infiate l'action cam qua sopra infiate l'action cam come potete vedere potete metterla un po' in tutte le direzioni non dico che sia quasi a 360 gradi però ha molti gradi di libertà come si dice solitamente beh si allora vediamo le viti sono metalliche e il filetto dentro non so se si vede però è metallico anche la filettatura il resto invece è plastica sembra sembra abbastanza robusto francamente per cui se non fate mai downhill spinto che prendete botte a destra e a sinistra probabilmente può essere può andar bene ecco per una normale gita in mountain bike su un sentiero medio facile non dovrebbe essere pure lì magari legge bene anche sul su un sentiero difficile con tante sconnessioni non lo so bisogna provarlo so che il down in non è proprio il mio sport questo 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 ah no si ecco questo è è la fascia per i caschetti ventilati per i caschetti per attività sportiva ventilati quelli con il filettore ai lati voi svolgete queste strisce queste cinghie le infilate dentro nel vostro nelle vostre aperture lo richiudete per cui avete proprio un fissaggio molto serrato sul casco e qui sopra ci mettete la vostra ci mettete la vostra action cam ah qui ha un attacco piano per cui vedete per cui ha un altro attacco piano è pieno di attacchi questo kit e ultimo è la la custodia impermeabile specifica per l'osmo perché ha tre bottoni uno due tre il bottone laterale erano messo al contrario qui doveva essere QS invece è un S con la Q rovesciata vabbè paziente e vabbè è molto molto dura c'è una bella una bella guarnizione su tutto il lato e ho visto sul sul sito del produttore di questo kit che diciamo che viene data per fino a 60 metri di profondità ecco c'è su ancora la pellicola positiva io non so se mi fiderei a scendere a quasi 60 metri di profondità con una custodia non originale magari è buona ugualmente però magari fate fate prima delle prove comunque la Osmo Action è impermeabile fino a 11 metri da sola senza custodie se scendete oltre se vi serve una custodia subacquea non lo so potreste fare delle prove di immersione con la custodia senza l'Action Camera e ci mettete un po' di carta assorbente dentro fate la vostra immersione e quando uscite controllate se la carta assorbente è bagnata ed è entrata acqua questa custodia non va bene per voi se invece è ancora tutto asciutto secondo me potreste anche farvela andare bene perché la sola custodia della DJI costa 55 euro infine c'è proprio questa borsa contenitore per la Osmo Action è spaziosa c'è la schiuma tagliata laser che potete togliere i pezzi qua ci sono tre feritoie per le batterie aggiuntive tre feritoie per le batterie questa grande probabilmente ci mettete il caricatore batteria originale da DJI qui ce n'è un altro non so cavetti microfoni e poi qua dietro do dietro questa flangia c'è una taschina porta oggetti per cavetteria varia per cui tutto sommato è un kit molto ricco e tutto questo costa 38 euro perché l'abbiamo comprato oltre che per provare anche perché comunque noi avevamo intenzione di prendere dei vetri temperati per la Osmo Action li avremmo comprati anche senza questo kit e solo questi vetri temperati costano circa 10 euro poi avevamo l'intenzione di comprare un'altra fascia per la testa come questa allora quella di Amazon c'è una fascia Amazon Basic per Action Cam che è praticamente identica a questa se guardate su Amazon è identica e solo quella costa 12 euro ok la DJI fa una fascia per la testa costa di più però include anche una clip per per appiccicare all'Action Cam magari alla visita di un cappellino da tennis da basket per cui già solo queste solo questi due pezzi sarebbero stati 22 euro diciamo che questo questo mini treppiede è molto interessante e ci verrà utile secondo me almeno un 5-10 euro li vale ecco lo shorty della DJI che fa sia da treppiede che un po' da selfie stick però come selfie stick è molto limitato perché poi si può allungare solo di 22 cm e mezzo per cui capirete non è che si possa proprio usare come selfie stick altri diciamo stick della DJI o della GoPro costano di più cioè il 3 in 1 della GoPro costa 60 euro certo fa di tutto fa da treppiede da cavalletto da selfie stick molto lungo però questo è 60 euro e quello della DJI mi sembra che costi una una trentina di euro ho fatto due conti ho qua un po' direttino se avessi preso una custodia subacqua della DJI l'impugliatura galleggiante a DJI il kit di viti per gli attacchi per il casco l'asta telescopica ecco 49 euro costa l'asta telescopica che vi dicevo prima i supporti adesivi e una cornice un'altra cornice come questa tra l'altro senza slitte tutto mi sarebbe costato 196 euro per cui cominciate a capire che si tratta di cifre molto importanti mentre lo stesso più o meno lo stesso kit con materiale originale della GoPro sarebbe costato quasi 339 euro c'è da dire che la GoPro se vi è abbonata al loro servizio fa gli sconti sull'acquisto dei degli accessori una volta era il 50% adesso è dal 20 al 50% a seconda dell'accessore per cui da 339 euro che potreste pagarlo potreste arrivare a pagarne dai 180 ai 240 sono cifre veramente diverse rispetto ai 38 di cui stiamo parlando per cui questo kit potreste provarlo per capire cosa vi serve veramente nella vostra attività di tutti i giorni con la vostra action cam una volta che avete individuato quei 3 4 5 pezzi che reputate necessari potreste pensare di fare un upgrade al materiale originale della DJI o della GoPro e spendereci dei soldi però magari così provate prima e capite se vale la pena spenderli oppure no perché comunque la maggior parte dei pezzi sono di plastica sia in questo kit compatibile che in quelli originali i filetti che ho visto finora sono tutti sono i viti metallici non ci sono filettature in plastica tutte le parti avvitabili sono metalliche però non posso dare un giudizio sulla qualità del metallo utilizzato sulla resistenza alla corrosione e quello si può vedere solo magari nel lungo periodo per cui magari faremo un altro video fra un anno e vedere cos'è il sopravvissuto di questo kit e in che condizioni dico solo che per 38 euro francamente secondo me non deve trascurare l'idea di acquistarlo ecco per cui stavo dicendo 12,50 euro solo di fascia 10 euro di vitrini la custodia per portare in giro anche gli accessori i microfoni la Osmo Action la custodia identica a questa della DJI costa 19,99 euro anche se adesso in offerta mi pare a 12 per cui mettiamo altri 12 euro siamo già quasi 38 euro solo con questi tre oggetti 35 con queste superiamo i 38 euro tutto il resto praticamente ci esce gratis l'unica l'unica cosa è che bisognerà vedere la tenuta all'usura e al passare del tempo vi faremo sapere come vanno le cose voi guardate a seguire i nostri video magari ogni volta che usiamo un pezzo nuovo nei video lo diremo e vi daremo un giudizio su come su quali siano le performance e sulle nostre impressioni grazie per averci seguito e alla prossima dai due in cammino e alla prossima vi daremo vi daremo Grazie a tutti